Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video Un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati con un nuovo episodio su Clash Royale Per un chest opening veramente particolare e secondo me interessante Perché non andremo ad aprire tanti bauli leggendari, tanti bauli super magici Però li andremo ad aprire tutti Avete capito bene ragazzi, andremo ad aprire tutti i bauli possibili su Clash Royale Prima di iniziare ragazzi vi volevo invitare a lasciare un bel mi piace Cerchiamo di arrivare almeno a 3000 like entro questa sera Ci tengo veramente tantissimo ragazzi Qui nelle schede tra l'altro in alto alla vostra destra trovate anche tanti altri video che vi consiglio E soprattutto in descrizione troverete anche il primo episodio della scalata su Clash Royale Che ho iniziato ieri Quindi mi raccomando ragazzi dopo questo video se vi siete persi il primo episodio della scalata su Clash Royale Vi consiglio di andarvelo a vedere E tra l'altro ragazzi un'ultima cosa Venite a me a seguire su Instagram, questo qui è il mio profilo Perché lì vi aggiornerò su future live Perché è possibile, non è sicuro, però è possibile Che domani farò una live su Clash Royale E probabilmente di mattina Quindi ragazzi mi raccomando venitemi a seguire su Instagram perché è importantissimo Scusatemi se mi sono dilungato un po' troppo nella intro Però devo dirvi assolutamente queste cose importanti Come appunto vi ho annunciato nell'episodio di ieri Che era appunto il primo episodio di questa scalata Oggi siamo qui per aprire veramente tanti bauli Come vedete qui abbiamo dal baule omaggio fino al baule super magico Abbiamo anche un gran bel baule della sfida grandiosa di ben 7 vittorie Che è quasi un baule super magico È tipo la metà di un baule super magico circa E abbiamo anche nell'offerta il baule epico Manca il baule leggendario Infatti tra poco ragazzi mi collegherò con l'account di un mio amico E andremo ad aprire anche il baule leggendario Ovviamente ragazzi non posso non aprirli in sequenza Quindi partiamo con il baule omaggio Quindi eccoli qua ovviamente Non troveremo niente come al solito Anzi vabbè le gemme che ci possono sempre essere utili La scarica Andiamo con il baule argento Non so però se abbiamo il baule oro Attenzione ragazzi se ce l'ha il mio amico È bene se no ragazzi pazienza Non abbiamo aperto il baule oro Ok andiamo ad aprire anche il baule della corona Ok perfetto le gemme anche qui Il bombarolo gigantone royal Ok abbiamo la epica perfetto Le guardie bene bene le guardie non sono affatto male Ora ragazzi iniziamo con i bauli veramente interessanti Partiamo dal baule gigante che ce l'ho qui da veramente penso due settimane Quindi magari sei ricaricato per bene Dai ti sei ricaricato per bene Ok ci dà subito anche un epico scheletro gigante Che però non utilizzo anche se ho al 4 30 golem Oh sti golem di ghiaccio Me li dà sempre Me li dà sempre Porca miseria Oh 273 spiriti di ghiaccio Lì possiamo portare all'11 Tanta roba Tanta roba ragazzi Adesso andremo ad aprire il baule magico Perché secondo me è meno Pieno del baule della sfida grandiosa Da 7 vittorie Non lo so ragazzi Penso di si però E quindi andiamo con il baule magico Mamma mia se trovo una leggendaria qui ragazzi Mi sento male Ci ha dato già Guardate le comuni che ci sta dando Guardate le rare Niente ragazzi Io con i bauli magici sono veramente sfigatissimo Ok vabbè lo specchio ci può stare Perché in parecchi decchi io lo utilizzo lo specchio Non so perché mi piace Quindi al 5 non potrei Non è male Quindi ragazzi Ora andiamo con questa sfida grandiosa Con il baule della sfida grandiosa Eccoci qui Mamma mia l'oro Mamma mia l'oro Un domatore Perché un domatore Ma dammene 7-8 Tiè Dammene qualcuno Il domatore mi serve Minchia 21 scheletri 4 estrattori Mannaggia la misa 8 lapidi Ma perché così poche Dammene una Ma dammene tante Tiè preferivo pure 30 lapidi Piuttosto che tutte ste carte rare Tiè continua Continua a darci rare Ma si no ma va benissimo così Comuni Ma che schifo che schifo Una volta ho aperto il baule della sfida grandiosa Da 5 vittorie Mi ha dato molte più carte interessanti che questo qui Porca Ho 3 guardie Però vabbè dai almeno una gioia ce l'hai data Almeno una gioia ce l'hai data Le possiamo quasi portare al 5 Le guardie a me piacciono Ok ragazzi Ora io questo baule super magico Lo volevo far aprire a lui Ok perché lui Su 5 baule super magici Che ha aperto Ha trovato 5 leggendarie Però ragazzi Questo chest opening Voglio aprirlo Completamente io Anche perché La maggior parte dei bauli Li sto facendo io Non ho jamming Tra l'altro A parte vabbè Questo baule Ah tra l'altro Dobbiamo aprire prima il baule epico Che cosa stavo facendo Stavo aprendo il baule super magico E mi stavo scordando di quello epico Tra l'altro è anche di arena 9 Quindi neanche male Ok se trovo il bocciatore Mi sento male Se trovo il bocciatore Mi sento male Oh vabbè lo specchio Dai ci può stare Ci può stare anche il cuccio di drago Che ogni tanto inserisco Nei miei deck Ok ragazzi Appunto vi sto dicendo E prende una Un chest opening Non jamming A parte la sfida grandiosa Che ho pagato 100 gemme Però vabbè Pazienza Alla fine Quelle 100 gemme Conviene un sacco Se poi fai 6-7 vittorie Ancora meglio Ok ragazzi Siamo partiti Siamo partiti Il baule super magico Ovviamente un sacco di oro 77 comuni Siamo già a 3 epiche 3 epiche Altre 20 ce ne devi dare Altre 20 Altre 20 No ragazzi Io Ragazzi io non ci voglio credere Serio eh Non ci voglio credere Cioè 20 epiche 20 epiche ci servivano Ce ne ha date 19 Preferivo che ce ne dava 15 Che ce ne avesse date 15 16 Ma 19 no A parte il fatto Che ci ha dato L'orda di scheletri Che per il deck Che sto utilizzando io Mi servono un sacco Le orde di scheletri Però porca miseria Porca troia si Porca troia si Porca troia si Porca troia ma che Perché Perché Che poi Cioè raga Allora 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 Cioè aspettate un attimo Perché Voi dovete sapere che questa qui è la mia leggendaria preferita È la mia leggendaria preferita E l'ho trovata nel bau Cioè perché 22 Ci ha dato 3 veleno Cioè È vero che nel baule C'è scritto Cioè nel baule Ci dovrebbe essere scritto Che sono 22 le epiche Però Tutti hanno sempre detto Che devono essere 23 le epiche Per trovare la leggendaria Cioè Allora Come ragionamento è giusto Perché il gioco c'ha ragione Cioè 22 epiche E poi ci dovrebbe essere la leggendaria Però Perché c'è sempre questo detto Che devono essere 23 le epiche Che tra l'altro Nel chest opening L'ho fatto con lui E che ha trovato 5 leggendari su 5 In tutti e 5 baule super magici Sono sempre stati 23 Epiche E non era un baule Di un'arena inferiore Perché poi Dipende anche dall'arena in cui l'apri Io quel baule L'ho preso in arena 9 Ok ragazzi Allora Non dovrebbe essere un bug Perché comunque qua c'è scritto 22 epiche E va bene Però è particolare come cosa Cioè adesso non vorrei sbagliarmi io Ma in tutti Io poi seguo anche un sacco di chest opening Perché a me piace farli E piace anche vederli Però Cioè vabbè Vabbè raga Cioè vabbè Io regà sono troppo contento Cioè penso che io ormai Ho fatto una reazione del genere Ma io sono troppo contento Io sono troppo contento Di aver trovato lo stregone di ghiaccio Ragazzi Era la mia leggendaria preferita Porca puttana Non ci voglio che Io adesso faccio tutti i deck Sullo stregone di ghiaccio A me piace troppo lo stregone di ghiaccio Mamma mia quanto mi piace lo stregone di ghiaccio Preparatevi Raga Andatevi a vedere l'episodio di ieri Perché nella scalata Io ci inserisco lo stregone di ghiaccio E comincio proprio a manetta Raga Mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia Vabbè Ok ragazzi Dopo questo Esaustivissimo C'è sto opening Anche abbastanza particolare Andiamo appunto Con l'account del mio amico Per andare ad aprire il baule leggendario E qua anche qualche altro baule Ok ragazzi Allora Eccoci qui appunto Con l'account del mio amico Che si chiama Alessandro Infatti Alessandro Ti saluto E ti ringrazio ovviamente Non sono mai stato così felice Di vedere un baule d'oro Sinceramente Perché ci mancava solo lui Praticamente A parte raga Che mi so ricordare adesso Mentre facevo il cambio dell'account Che non abbiamo Il baule dei tornei Questi qui Quelli personalizzati Però vabbè raga Pazienza Cioè nel senso Abbiamo aperto quello della sfida grandiosa Abbastanza grande Quindi secondo me Ci possiamo accontentare Anche così Allora Il baule omaggio Vabbè ovviamente ragazzi Ormai io non mi aspetto più niente Al baule omaggio Ok L'oro Le gemme Il razzo La tesla Io poi adesso andrei Appunto di baule d'argento Eccolo qui La torre bombardiera Gli arcieri Ok Andiamo di baule d'oro Perfetto Nuovamente la tesla Gigantone royal Mortaio E la capanna dei barbari Andiamo col baule della corona Oro Gemme Spiriti di fuoco Gigantone royal Nuovamente Puoi quasi portarlo al 10 Ale E Mortaio nuovamente Ok E vabbè Il golem di il ghiaccio Ora Andiamo ad aprire il baule epico E poi andiamo a vedere un po' le leggendarie Che servono al nostro caro amico Alessandro Tra l'altro il golem Che lo stanno utilizzando tutti L'ho detto anche in eri Nell'episodio della scalata Vabbè E il cuccio di drago Che può portare al 4 Ok 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 Allora ragazzi Allora ragazzi Lui ha due leggendarie La principessa Come possiamo vedere qui E il tronco Ok Che il tronco ce l'ha al 2 Lui mi ha detto Va bene anche che trovi la principessa Va bene La portiamo al 2 Ma non mi trovare nuovamente il tronco E tra le leggendarie Lui non vorrebbe il mastino Anche se ovviamente ha detto Meglio il mastino Che un altro tronco E ovviamente lo capisco anche Ora ragazzi Questa situazione Si era venuta a creare Anche con il mio amico Ako Ok Che anche lui Non aveva leggendarie Aveva solo il tronco E io gli sono andato a trovare Il tronco Ora Io spero che sto gioco di merda Non mi faccia trovare nuovamente Il tronco Ad una persona Che non vuole trovare il tronco No Ok Ok Andiamo Io non voglio vedere Non voglio vedere Non voglio vedere Stregone di ghiaccio E dai 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 Alessà Quindi adesso anche tu Sei un pro player Ho trovato 2 stregoni di ghiaccio In un video Ed è la mia leggendaria preferita Non posso Non essere contento Raga Non posso non essere contento Ma io sono veramente contento Di aver trovato lo stregoni di ghiaccio Nel mio account Perché io cercavo solo lui Adesso Chi gioca da tanto lo sa Prima me il leggendario C'erano solamente La principessa E lo stregoni di ghiaccio Io ho sempre cercato lo stregoni di ghiaccio E non l'ho mai trovato Adesso Alla distanza di 11 mesi Praticamente da quando gioco Sono riuscito a trovare lo stregoni di ghiaccio Ma non potete capire che liberazione Ha diventato ormai un'ossessione per me Ok quindi ragazzi Ho anche portato fortuna ad Alessandro Quindi Daglie 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 Mamma mia Ho una paura di trovargli di nuovo il tronco Che voi neanche immaginate Sono stato contento Come vi ho appena detto Anche perché comunque Ho trovato per me lo stregoni di ghiaccio Spero che questo chest opening Un po' particolare dal punto di vista di tanti bauli Che ci sono stati e di tutti i tipi Vi sia piaciuto Ovviamente se è così Lasciando un bel mi piace Iscrivetevi al caso Ancora non è stato fatto Venitemi a seguire su Instagram Perché appunto Potrei iniziare già da domani A fare le live Vi annuncerò tutto lì E quindi niente ragazzi Per me è tutto E noi ci troviamo domani Sia con la live probabilmente Che appunto Con il video di domani Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti